Salve a tutti amici artisti, con questo video voglio rispondere a tutte le vostre domande e lasciatemi sotto al video di 3 di mercoledì. La prima domanda è da quanti anni sono su YouTube? Sono su YouTube dal 2012, siamo nel 2018 quindi sono 6 anni. La seconda domanda è che webcam usi per registrare il tuo vlog? Uso una webcam Microsoft HD. Cristo cane! Allora la terza domanda è hai un gruppo Whatsapp dove parli del tuo canale con i fan? Sì l'ho creato poco fa e troverete il link in descrizione sotto il tuo video. La quarta domanda è hai fratello e sorelle? Sì siamo in 4, ho 2 sorelle e un fratello. Allora la quinta domanda è che usi per registrare i video e che programmi usi per editare? Per registrare uso un Anko Pro. I programmi che uso per i video sono Nero e VSDC Free. La sesta domanda è che computer usi? Uno da gaming o lavorativo e che monitor usi? Il computer che uso è da gaming però usato per lavorare e il monitor è Masus. Settima domanda. Hai una macchina e se si quale? Sì ce l'ho una macchina ed è un'auto di TTI QP. Quattava domanda qual è stato il disegno di cui è più fiero? I miei disegni dipinti li hanno migliori un po' tutti. Però quelli di cui sono più legato sono due copie d'autore. Uno è in ultimi giorni di Pompei e l'altro si chiama In Cucina che è molto grande. La nona domanda. Hai mai pensato di fare qualcos'altro oltre il disegno? E se si cosa? Mi sarebbe molto piaciuto quello di fare il make-up artist. Cioè realizzare le maschere, i trucchi per i film horror e fantascientifici. La decima domanda. Sei sposato o hai figli? No, non ho figli e di conseguenza non sono neanche sposato. Non mi sono mai sposato. Undicesima domanda. Verrai mai a qualche evento tipo Romics, Comics eccetera? Ho avuto il piacere di esserci quest'anno alla mostra Dolcevara a Napoli e a Comic-Con. Ma spero di essere presente in futuro anche a tutti gli altri eventi come questo. Perché è stata una bella esperienza. Dondicesima domanda. Farai mai qualche collaborazione tipo Elettripeo o Fra Frog? Spero di sì, mi piacerebbe. La tredicesima domanda. Che colori usi per disegnare? Allora, solitamente uso questi, Giotto. Anche gli apparellati, questi qui. Però diciamo che non uso soltanto questi, ma anche i pennelli, i pennelli o altre cose. Quattordicesima domanda. A che età hai iniziato a disegnare? Diciamo prestissimo, sin da piccolo. Infatti non scrivo ancora ma già disegnavo. Mi ricordo che già cercavo di produrre le statue e le cose che vedo in casa. Quindicesima domanda. Sei fidanzato? No, purtroppo non sono fidanzato. Ma approfitterei per lanciare un appello. Cristo! Ultima domanda. Mostraci le inquadrature che usi. Allora, uso una GoPro che è questa qui. E poi uso la webcam che è quella da quale sto registrando, che è questa qui. Quindi questa è la prima inquadratura e poi vi mostro la seconda. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like e iscriviti al canale. Sotto al video, in descrizione, te lasciate hashtag mele non risponde per le prossime domande. Lascerò il link del gruppo WhatsApp. Ciao a tutti, al prossimo video.